Il popolo italiano ha dato nella sua tre volte storia millenaria esempi formidabili di organizzazione giuridica, politica e sociale. Il Mediterraneo è un mare certamente meridionale, ma è sulle rive del Mediterraneo che sono nate le grandi religioni, le grandi filosofie, la grande poesia è un impero, è un impero che ha sciato tracce incancellabili nella storia di tutti i popoli civili. Dall'alto di questi trenta secoli di storia noi possiamo guardare con un sovrano disprezzo, talune dottrine d'altra alpe, di gente che ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita, in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Grazie! 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 Grazie!